Gentili telespettatori, buona giornata. L'Istat dice che per colpa del super bonus il rapporto tra deficit e PIL è peggio di gran lunga del previsto. Alla fine sti soldi da qualche parte devono andare. Non esiste la casa ristrutturata gratis, non esiste neanche nei film quelli fiabeschi. Ecco, se l'Italia avesse inventato realmente il metodo per ristrutturare case, comprare macchine, gratis, sarebbe da 20 premio Nobel in una volta sola. Quindi capite che il concetto, il fatto, si ristruttura la casa gratis e nessuno paga, non è vero. Alla fine c'è sempre qualcuno che paga e chi paga è lo Stato. L'Istat ritocca al ribasso i dati sulla crescita del 2022. Il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 1.909.000 milioni di euro correnti. Quasi 2 miliardi. Con un aumento del 6,8% rispetto all'anno precedente e del 3,7% in volume. Meno delle stime che indicavano una crescita economica del 3,9%. I dati di oggi, mercoledì 1 marzo, sono in linea con le stime del Nadef che a novembre scorso aveva fissato la crescita proprio al 3,7%. In controtendenza rispetto all'andamento generale. Nel 2022 cala dell'1,8 su base annuale il valore aggiunto dell'agricoltura per effetto dell'aumento dei costi energetici e dell'impatto dei cambiamenti climatici, maltempo, siccità. Nel 2022 il rapporto deficit-PIL si è attestato all'8% contro le stime del Nadef che dava il 5,6%. L'Istat evidenzia che sul calcolo ha pesato l'impatto dei vari superbonus, il credito d'imposta. La stessa voce ha portato anche a una revisione peggiorativa dei dati del 2020-2021, i due anni precedenti. Nel 2020 il deficit si è attestato quindi al 9,7% del PIL. Nel 2021 al 9%, le stime davano un deficit molto più basso. Perché il superbonus ha un impatto negativo su deficit e debito nel 2022? Come ha spiegato Federico Fubini, Eurostat, l'agenzia statistica europea, ha messo l'Italia di fronte a un bivio. Iscrivere 120 miliardi di euro di crediti d'imposta già generati nei deficit del 2023 e degli anni successivi oppure iscriverli a deficit tra il 2020 e il 2022, quando i crediti d'imposta furono generati. Il governo opta per quest'ultima soluzione, mettere questi 120 miliardi nel 2020-2022, decidendo così di scrivere gli oneri nei deficit di questi due anni, tra il 2020 e l'inizio del 2023. Naturalmente sono 120 miliardi con segno negativo, non 20-30, 120. Alla fine, ovviamente, come vi dicevo all'inizio, se tu fai la casa gratis, è vero? E probabilmente sì. Non la paghi, la ristrutturazione. Tu hai una roba energetica, non è la ristrutturazione classica, la cascina che ristrutturi. Si parla di ristrutturazione energetica, quindi se tu la casa non la paghi, chi te la costruisce invece riceve soldi, quelli dei materiali ricevono soldi, qualcuno, questa ristrutturazione dovrà pagarla. E anche se tu fai tutti i giri contabili di credito, lo prendo, lo metto qua, tu lo passi a quello, tu lo passi... Sembra il gioco delle tre carte. Dov'è? Dov'è adesso il buco? Eh, con le tre carte, dov'è il busco? Il buco? Eh, dov'è il buco? Il buco ce l'ha sempre lo Stato. Eh, non è che si va molto lontano. Quindi lo Stato si deve smazzare 120 miliardi. Dove li metto? 2020 fino al 2023? O li metti di qua, o li metti di là, questi 120 miliardi di deficit. Cosa vuol dire deficit? Che sono in negativo, hanno il segno meno. E dall'altra parte devi metterci il segno più. Quindi li devi trovare. Nel 2022 la pressione fiscale complessiva è risultata pari al 43,5% in aumento rispetto all'anno precedente per effetto della crescita delle entrate fiscali e contributive. più 7% rispetto a quella del PIL a prezzi correnti, più 6,8%. Le entrate totali delle amministrazioni pubbliche sono cresciute del 7,9%. L'incidenza sul PIL è pari al 48,8%. Le entrate correnti hanno registrato un aumento del 7,1% attestandosi al 47,9% del PIL. In particolare le imposte dirette sono cresciute dell'8,5%. Principalmente per l'aumento dell'IRPEF e dell'IRES. Il super bonus è in dubbio che abbia contribuito a far crescere il PIL, a non far andare l'Italia in recessione. Dicono che abbia portato un beneficio di quasi 200 miliardi. Però, va bene, ha portato un beneficio di 200 miliardi. Che fai? Lo butti via? No, non lo butto via. Però adesso i 120 miliardi che ha lo stato di buco, che si fa? Dicono che ha portato 200 miliardi. Sì, ho capito, ho capito il tuo discorso. Ne ha portati 200, va bene. Ma quei 200 sono andati a pioggia distribuiti in Italia. E quindi ho fatto bene. Sì, ma lo stato ha 120 miliardi di deficit, con segno negativo di buco. Quindi, va benissimo che ha portato degli effetti positivi. Ma quegli effetti positivi hanno portato un effetto negativo allo stato. E' come se io aiuto delle famiglie. Dice, che bravo, hai aiutato delle famiglie. Grazie, grazie. E insomma, io aiuto delle famiglie. E poi io mi trovo con un buco in banca. E la banca mi chiede i soldi. Mi dice, me li devi dare entro 20 giorni. Dice, però hai aiutato delle famiglie. Sì, ho aiutato delle famiglie, ma adesso io sono nei guai. Questo ha fatto lo Stato. Ha aiutato con questo giro di soldi strano. E adesso c'ha un buco che deve riappianare. Arrivederci a tutti e grazie. 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 Grazie.